Si sono svolte le finali nazionali Gran Premio giovanissimi di Fioretto. Nella bellissima cornice del Play Hall di Riccione, per la categoria lieve di Fioretto, la Podigi Mavellino, ha schierato in gara la fiorettista Stefania Vozzella, seguita in penana dal giovane aspirante istruttore Alessandro Liotti, che per l'occasione ha sostituito egregiamente il maestro Francesco Luongo e Carmelo, al vino impossibilitati ad essere presenti in gara. La fiorettista della Podigi Mavellino, Stefania Vozzella, nella fase a Gironi non ha brillato particolarmente per le sue qualità tecniche, in quanto ha regalato alla sua avversaria due assalti praticamente facili. La giovanissima atleta erpina si è rifatta vincendo invece i due assalti più difficili. Nonostante la non continuità della performance, è riuscita comunque a concludere nella classifica finale al trentasettesimo posto, portando il suo ranking in una posizione utile per un'eventuale convocazione per il prossimo campionato europeo cadetti.